Questa è una legge della Chiesa, non è un mandato divino. Le leggi della Chiesa sono fallibili perché create da un uomo. Una delle ultime sacre promesse fatta a Pietro, il primo Papa, da parte del figlio di Dio prima che morisse fu... Ciò che tu riterrai giusto in terra... No, lo riterrò giusto in paradiso. È legge dogmatica. Se la Chiesa dice che è così, Dio deve aderire. Visto che la Chiesa ha deciso...